Allora, adesso sto trovando un attimo, perché, nantiduno per i nazionali, sono tutti i paotti, per il solito valentino, che per noi è molto importante, perché c'è la Pascina, la Pascina, la Pascina, il territorio importante, non solo valentino, ma anche penso alанти anche che non lo vi fa, ma siamo, i paotti se non radibiscono all'Otto questa troco e per il priorito siamo comunque con un ministro. Questo esternet anche un professore che ha detto a tutti voi chedoors membri, tutti voi voi se siete dei rivisarmitori, se siete i rivisarmitori programmi e che sanno la difficoltà della partire, se abbiamo здесь questi due anni. Perciò è ancora più importante poter ricordare gli altri, tra tutti gli stori, per parte delle nuove imprese, della nuova comunità, della nuova pubblicità, della nuova famiglia e ricordare sempre anche la barba a casa. Un barba a casa che vuole essere sempre di più una risorsa del territorio, che vuole essere un'ambienta, e non solo, ma una associazione che la parla sul territorio, per i suoi esposi e per i suoi cittadini. Perciò è un ringraziamento veramente di cuore, veramente sentito per tutti, di scuola, per fare, per dare nuovo a questa società di continuare a esistere, per continuare a lavorare e anche in un'aula pubblicità. Siamo qui presenti con tutta la squadra, con il nostro delegato, con il nostro ministro Franco Colombo, perché siamo veramente entrati di tutto questo cittadino, di tutto quello che parte quotidianamente per noi. Un particolare, che è un'attività consapevole dal direttore del del carattere del carattere, Marco Montelli, che va a fare la nuova pubblicità, per l'anno 60 anni, per poi, speriamo che è benissimo, che si ricordano di noi, dei momenti critici e occultati della storia del carattere, che ha vissuto la sua pena e la sua cacciola. Io non so se vi ho passato la parola a qualcuno, ma in questo voglio assolutamente ringraziare i padroni italiani, tutti voi presenti, e vi aspetto sempre a un risultato e assolutamente a Porto Palma. Grazie a tutti.